Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli, vediamo la situazione del traffico della mobilità in questo martedì 12 dicembre. Cominciamo dall'autostrada in A1, traffico bloccato per perdita di carico all'altezza del nodo A1-11 provenendo da Roma in direzione di Pisa, si tratta di lastre di ferro. Sempre in A1, prudenza per nebbia banchi tra roncobilaccio e aglio. Inaundici possibili disagi per gli spostamenti mattutini tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, infipili tra La Strassigna e Firenze Scandicci, ancora una volta verso il capoluogo. Per il traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tramviari per la tratta Fortezza Libertà San Marco sono in corso lavori di asfaltatura di Viale Lavagnini con restringimenti verso Piazza della Libertà. Sempre sul viale, sulle direttrici e verso la Fortezza proseguono le operazioni di scarico e posa dei binari. Moversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!